Federica Petagna ha finalmente preso una decisione importante. Ha scelto di tornare tra le braccia di Alfonso Dapice, lasciando alle spalle Stefano Tediosi. Ma la reazione di Greta Rossetti, ex Temptation come Federica, non si è fatta attendere. Greta ha espresso il suo disappunto su Instagram riguardo alla scelta di Federica, definendola ambigua e indecifrabile. Ha criticato apertamente la Petagna, definendo Alfonso come una scelta scontata e ovvia. Greta ha sottolineato la mancanza di umiltà e la presunzione di Federica, bocciandola senza mezzi termini. I social non hanno tardato a reagire alle parole velenose di Greta, accusandola di essere ancora arrabbiata con Mirko Brunetti per aver preferito un'altra concorrente. La dinamica tra Federica, Stefano e Alfonso ha ricordato da vicino il triangolo amoroso della passata stagione del Grande Fratello, suscitando polemiche e discussioni online. Alcuni utenti hanno criticato l'atteggiamento ipocrita di Greta, definendola una giocatrice che ora cerca di analizzare la situazione da spettatrice. Tuttavia, molti hanno interpretato l'attacco di Greta come un modo indiretto per esprimere il suo disappunto nei confronti di Mirko, che ha preso una decisione simile a quella di Federica. In fondo, le ferite del passato possono essere difficili da guarire e forse Greta ha solo cercato di esprimere il suo dolore in modo sbagliato. Resta da vedere come evolverà la situazione tra Federica, Alfonso e Stefano e se Greta continuerà a esprimere il suo dissenso sui social. Grazie a tutti! Grazie a tutti!